Non capisco perché ho lasciato un piccato. Perché sono sempre un tipo di stessi, come a chagare, come ho già pagare. E così, che va. non capisco perché provarsi in un piccolo, portare a chi sarà un popolo, andiamo a cagare, andiamo a cagare, andiamo a cagare, e riportare non capisco, e i cani cagare... Andiamo a cagare, andiamo a cagar... Iscriviti al canale